Che c'abbiamo qua? Kevin, era 5 Kevin, c'è il pugnone e chi era 2? Ah beh, inizio a domenici qua, ma io c'era anche questa, la domenica. Grazie a tutti. Buongiorno a me la sua, Cristian. Ultimo avviso per comunicare eventuali variazioni, iscrizioni, stampetta. Ultimo avviso. Complimenti, eh? Grazie. Partenza per la serie unica, categoria senior femmine in corsia 2, Maera Capponcelli, record in Bologna, alla 3, Petra Serenino, Padania, Sud Maredo, alla 4, Viola Donadello, SNP Padova, alla 5, Silvia Baroncini, record in Bologna, alla 6, Elisa Giubileo, nuoto club Milano. Con la partenza della prossima gara, abbiamo effettuato la premiazione della prima, seconda, terza categoria, maschi e femmine, 400, nuoto piminato. Nel Dane, prossima premiazione. Alberto Rotov, quelle distanze là al 4 e poi qui, ci sanno ormai di chi sono le più distanze qua. Luca Adami, Davide Gino, con urgenza in zona premiazione. Luca Adami, Davide Gino, in zona premiazione. Grazie. E non tira adesso non ce la fa più, c'è l'unico. E non tira adesso non ce la fa. E non c'è l'unico. E ha tirato molto le premie. 3,4,6,9,3,21.